Andrea Costa, consigliere regionale dell'NCD, a Genova sta con la Lega ma a Roma naturalmente nel partito di Alfano sta con Renzi. Questa è una delle critiche che sono state mosse negli ultimi giorni anche da parte del Partito Democratico. Come risponde il consigliere? Io credo che ai cittadini Liguri interessi di più cosa facciamo come regione, quali sono i provvedimenti che approviamo e come riusciremo a migliorare la nostra Liguria e come riusciremo a migliorare i servizi. Per quanto mi riguarda io in questi miei 23 anni di attività politica ho sempre fatto parte di coalizioni di centrodestra quindi io sono dove sono sempre stata. In merito alleanze di governo, un'alleanza di governo che è nata all'indomani delle elezioni dove di fatto non era uscita dalle UNE una maggioranza chiara e netta. Nacque così un governo di coalizione per dar vita alle riforme strutturali del Paese e quella è quel tipo di maggioranza. Quindi non ci vedo nulla di contrapposizione, nulla di strano. In merito all'ordine del giorno contestato da parte del Partito Democratico dove si dice che io avrei votato contro il ministro dell'interno, in particolare Alfano. Evidentemente chi dice questo non ha letto neppure l'ordine del giorno perché nell'ordine del giorno in merito alla sicurezza si parla di tutt'altro, cioè di quello che può fare la regione per migliorare la sicurezza nella nostra regione. Quindi nulla in contrapposizione con il governo. Quindi non c'è contrapposizione tra Roma e Genova? Da parte mia, ripeto, ho ricevuto i voti da molti Liguri per cercare di svolgere al meglio il mio ruolo e sto portando avanti il mio dovere. Quindi quando mi sono candidato non è che ho fatto cambiamenti in corsa, mi sono candidato in una coalizione di centrodestra e faccio parte di una coalizione di centrodestra.